Sto facendo la salciccia vegana che erano le spezie che ho usato per condire le salcicce vegane. La caraffa, le lenticchie e i cecci. Scusate per le riprese ma qua ho frullato le lenticchie e i legumi tutti insieme perché la cipolla. Non ho centrato proprio niente da rispetto ma fa niente. Qua ho frullato, ho frullato. Poi io ho messo la farina, le spezie, le spezie e ho impastato tutto nel cucchiaio finché non si è. Ho messo il sale. Ho frullato e ho messo mi sembra la farina. Sì la farina. Non è sponsorizzato il video per niente. Io stavo impastando. Qua stavo impastando. Stavo mettendo il parmigiano. Stavo mettendo il farmigiano, scusate. E qua ho fatto la forma di salciccia. Di salciccia. Mi sono venuta delle salcici piccoli, salcicciotti, salciccine, salciccine. Io non sono molto precisa a fare queste cose qua. Scusate, c'è il mio compito di fare un po' di rumore perché sto anche a registrare un altro video che lo vedete domani. Ho messo l'olio nella padella e ho messo la prima salciccia vegana. E qui tutte le mie salcicce erano pronte. E finalmente, ecco il piatto guarnito per mangiare. Ho mandato buonissimo, era buonissimo, con la magnesia vegana, le patatine che sono vegane, questo tipo qua. Ciao ciao, buonanotte, a domani. Ciao, buonanotte. Grazie. Grazie.